Omicidio nel tardo pomeriggio di oggi a Susello di Ghiffa, sulle alture della collina Verbanese. La vittima, tra le poche informazioni che si hanno, è un giovane, classe 1989, Matteo Fiorini. Sul posto è intervenuta immediatamente la questura di Verbagna con la dirigente, la dottoressa Serena Sagliano, poi è arrivata anche la sostituto procuratore Sveva Deliguoro. In questo momento la scientifica sta ancora svolgendo i rilievi, il corpo della vittima è all'interno della casa. Non si conosce la causa del decesso con certezza, ma parrebbe che il giovane sia stato colpito con un coltello. In questura, nel frattempo, la squadra mobile che conduce le indagini sta ascoltando diversi testimoni. Per il momento non ci sono fermati, ma solo persone informate sui fatti. Prima qua c'era anche il sindaco di Giffa, Matteo Lanino. La vittima sarebbe legata ad ambienti legati al consumo di droga. A trovare il corpo sarebbe stato un amico. Per il momento è tutto quello che conosciamo e ci rivedremo più tardi con gli aggiornamenti. Grazie.